Noi abbiamo firmato a fine anno, a fine diciamo 2017, un accordo con il Comune di Padova. Oggi abbiamo un oggetto che sono le aree del Comune di Padova che devono passare di proprietà alla Regione del Veneto. Stiamo già lavorando ma se abbiamo la proprietà fisica delle aree possiamo investire anche di più. La Regione è pronta, il Comune faccia la sua parte e la faccia il più presto. Parla in modo chiaro il Presidente del Veneto, Luca Zaia. In Consiglio Comunale, dopo mesi di attese e tentennamenti, il Sindaco Giordani ha ottenuto l'incarico di trattare con la Regione l'accordo per il nuovo ospedale. Ma adesso di tempo non ce n'è più. Stiamo rispettando il cronoprogramma. La delibera della trasera in Consiglio Comunale non è risolutiva perché poi noi dovremo firmare un accordo di programma con tutti gli attori e quindi Università di Padova, Provincia, Comune, insomma tutti gli attori che ci sono, anche quelli che non ho citato. Quindi per noi è fondamentale trasferimento subito delle aree da un lato per essere ancora più operativi. La casa te la fai se sai già dove farla e se comunque ci puoi calpestare quel suolo. Due, la firma d'accordo di programma. Tempo prezioso perso sinora, insomma. Lo dice Chiare Lettere il Governatore che abbatte anche tutti i paletti messi dalle anime che sostengono la Giunta Giordani a partire da coalizione civica. Temi finanziari non sono un problema, li risolviamo noi. Temi di programmazione non sono un problema perché abbiamo ben chiaro come dobbiamo fare. Fra l'altro abbiamo un partner scientifico all'Università di Padova che ci segue in questa partita.